Un saluto da Jack Monora. Eccomi qui alla Segafredo Arena dopo la sconfitta della Virtus 89-74 con il Real Madrid. Real che aveva tre assenze pesanti, Rodriguez, Coseu e Fernandez e Virtus che era priva di Daniel Hackett. Però c'è poco da fare, il Real se mette l'abito della festa, sono dolori per tutti. E' la squadra prima in Eurolega che si è potuta permettere di perdere anche qualche partita mettendosi in pantofole, tanto si sentiva presso che si cura del primo posto, che peraltro per la cronaca penso proprio che arriverà. Oggi è venuta a Bologna con la convenzione di vincere la partita e l'ha vinta, semplicemente perché è la squadra campione d'Europa che nel dubbio si è rinforzata prendendo un playmaker che ha giocato in NBA come Campazzo. La Virtus non viene asfaltata, perde, arriva anche a meno 6, però c'è poco da fare. Quando si riavvicina ci sono dei fuoriclasse dall'altra parte che ti mettono magari la tripla. che ti fa zittire il palasporto. Nessuno della Virtus ha giocato oggettivamente male, questo mi sento di poter dire. Tutti hanno fatto il loro in proporzione però alla qualità dell'avversario. Volendo potrei dirvi che la Virtus ha tirato male da 3 perché chiude con 4 su 19. E' vero, è una brutta percentuale, ma sai in Real quando sotto ha gente come Yabusele e Tavares sa di poter uscire maggiormente sugli esterni perché è ben protetta sotto le planche. E dall'altro lato, per quanto riguarda la Virtus, tu devi marcare gente come Yabusele e Tavares che ti vanno magari di sotto canestro e chiaramente concedi maggior spazio ai tiratori che sono forti peraltro del Real, per loro 11 su 30, un 36% e parlo del tiro da 3. Ma tutte le voci vedono il Real più positivo rispetto alla Virtus e del resto giratela come volete e 15 punti di scarto parlano. Andiamo ai singoli. Cordinier, 12 punti, 5 su 8 da 2, 0 su 3 da 3, 16 di valutazione. Lui ha dato nel finale di quarto anche una spinta, una grandissima entrata, un paio di cose, energie. Secondo me la sua prova tutto sommato è da considerarsi anche da 6 più. Poi i voti oggi sono molto particolari perché tutti hanno giocato, ribadisco, in relazione al valore dell'avversario. Nessuno però secondo me ha giocato una partita da 5. Per me si va dal 6 al 6 e mezzo, la forbice è veramente ristretta. L'Undberg per quanto mi riguarda è tranquillamente da 6 più. 11 punti, 4 su 7 da 2, sì è vero 1 su 5 da 3, 10 di valutazione, però è un altro che ha difeso, ha messo energia. La sua parte l'ha fatta. Bellinelli un po' più spuntato, 2 su 5 da 2, 1 su 4 da 3, ma ha patito proprio questo aspetto, cioè dover tirare forzando spesso e volentieri. E alla fine 8 di valutazione per Belli che poi rimane in panchina anche perché Banchi spinge un po' con Dobric che qualcosina fa vedere. Paiola 4 punti con 2 su 2, solo perché senza Hackett ovviamente la cosa pesa, ma il 6 in pagella per me se lo merita. E anche Dobric si merita il 6, 1 su 4 da 2, 1 su 1 da 3, però una prova viva, intensa, sufficienza che ci sta tutta la vita. Lomas 5 minuti senza fare nulla. Schenghelia 10 punti con 5 su 9 da 2 e 0 su 3 da 3, 4 rimbalzi. Non è stata la sua prova migliore, ma io di fronte a quei colossi come faccio a non dargli un 6? Tutto sommato, Polonara 8 minuti senza fare nulla. 8 punti per Zizic che parte bene, parte anche in quintetto, 4 su 5 da 2, 3 rimbalzi, 11 punti. Vi dico sinceramente che se giocasse sempre così ci metterei la firma, meglio nel primo tempo, ovviamente nel secondo non ha avuto spazio. Dunston parte bene, 2 su 3 da 2, 4 punti, un buon inizio. Poi anche lui subisce la forza altrui. Dall'altra parte, 7 per Abalde, 10 per Campazzo, 10 per Ezzonia, 2 per Alossen, 7 per Dec, 14 Puarelli. Fa tutti nel finale, però tira delle schiacciate impressionanti, più a quella faccia cattiva che, vaglio a dire qualcosa. 6 per Tavares, non ha bisogno nemmeno di forzare più di tanto, però è un intimidatore nato. E 15 per Iabusele, secondo me il migliore della formazione madrilena, 3 su 4 da 2, 3 su 3 da 3, con delle bombe veramente chirurgiche. E poi ci sono 10 punti di Musa. Non mi sento di intanto dire che nessuno della Virtus appunto sia stato insufficiente. Il problema è che senza nessuno insufficiente, contro una squadra priva di tre giocatori, ripetisco alla Virtus, mancava Hackett, la Virtus ne prende 15 in casa. Questo vi deve far capire il valore del Real Madrid. Non mi voglio dilungare con l'editoriale, semplicemente una squadra più debole ha giocato contro una squadra più forte. Quanto è ampia questa forbice? Secondo me molto, ma voglio ricordare che ne prese 26 all'andata la Virtus. Proprio ci fu la sensazione che il Real fosse di un altro pianeta. Anche se qualcosa è cambiato in un girone, rimane il fatto che al termine di questa partita si percepisce sempre che il Real è di un altro livello. La Virtus è oggi, diciamolo con chiarezza, una squadra che vale i play-in e va benissimo per quello che ci aspettavamo a inizio stagione. Il Real gioca per vincere nuovamente l'Eurolega. Quanto vale questa forbice così ampia? Quanto è netta questa differenza? Enorme. Sono quei 15 punti che hai preso in casa e probabilmente Forni ne prendi 20 o 25. Ed è quello che è successo indicativamente a Madrid a suo tempo. Non c'è una colpa particolare, semplicemente se è una società che ha speso e ha speso anche discretamente, evidentemente, come la Virtus, che sta facendo un'ottima Eurolega, è una società che ha speso tanto di più e ha speso benissimo e non a caso è prima in Eurolega. Succede.